Resta alta l'attenzione sul problema dell'inquinamento presente nella piana di Venafro, dagli incontri organizzati dall'Associazione Città Nuova alla manifestazione degli studenti del Liceo Giordano di Venafro il 26 febbraio, passando per l'incontro tenutosi nel fine settimana tra il Presidente della provincia di Sernia, Alfredo Ricci, l'On. Antonio Federico, neocapogruppo del Movimento 5 Stelle in Commissione Ambiente e il Consigliere regionale Vittorio Nola. A tenere riflettori puntati sulla qualità dell'aria nel territorio venafrano, proprio il Movimento 5 Stelle regionale, che sta seguendo con attenzione l'iter del nuovo contratto di programma di ANAS, che prevede la connessione della circonvallazione di Venafro con l'autostrada Roma-Napoli attraverso Mignano-Montelungo. La realizzazione di questo progetto apporterebbe infatti grandi vantaggi dal punto di vista ambientale e infrastrutturale. Puntando su Mignano, dichiara l'esponente pentastellato Vittorio Nola, non solo bypasseremo Venafro, ma anche Sesto Campano e Caglianello, alleggerendo la pressione del traffico veicolare e daremo al Molise anche lo sbocco sull'autostrada A1 e il primo lotto di una superstrada utile all'intera regione. Ma questo non basta, prosegue il consigliere regionale. Anche sul piano prettamente tecnico-ambientale bisogna fare sistema, non solo a Venafro, ma in tutti i comuni della piana, per accelerare le indagini in corso e fornire soluzioni. È perciò fondamentale il ruolo delle istituzioni locali e regionali. Sarebbe di aiuto, conclude Nola, conoscere anche lo stato di attuazione del registro tumori, con specifico riferimento alle rilevazioni tra i deceduti e ammalati nella piana di Venafro. Inoltre, occorre utilizzare le tecnologie di cui dispone Ispra, anche per caratterizzare e analizzare i terreni, con l'obiettivo di verificare l'eventuale presenza di diossine. Inoltre, occorre utilizzare le tecnologie di cui dispone Ispra, anche per caratterizzare le tecnologie di cui dispone Ispra.